Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it quest'oggi parleremo delle differenze che esistono tra traccia audio e canale audio sembra assurdo ma anche molti professionisti spesso confondono questi due termini e oggi cercheremo di fare un attimino chiarezza vi ricordo prima di iniziare il mio sito internet www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'elenco di tutti i tutorial dedicati ad Adobe Premiere e nei prossimi mesi troverete anche video lezioni dedicate ad After Effects, Photoshop ed Adobe Audition non prima però di aver terminato questo corso introduttivo su Premiere iscrivetevi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial che usciranno nei prossimi mesi e iniziamo subito che differenza c'è tra traccia audio e canale audio? perché spesso si confondono queste parole si dice ah mi alzi un attimo la traccia, mi alzi un attimo il canale no voglio 8 canali mono, voglio 3 canali stereo, voglio 3 tracce combinate non ci si capisce nulla e allora come spesso accade quando si lavora a qualcosa prima di tutto occorre fare chiarezza con i termini in maniera tale da comprendersi e lavorare almeno sulla stessa identica cosa allora traccia audio cos'è una traccia audio? questa è la timeline di Premiere come vedete qui le ingrandisco un pochettino come vedete qui abbiamo delle tracce ok? queste sono tracce che portano ognuna di esse un elemento audio o un elemento video ok? questi sono elementi video questi qui sono elementi audio quando parliamo di traccia ci riferiamo a questa è come un'autostrada ok? è un'autostrada che permette al video e all'audio di correre separatamente quindi la traccia audio è una sorta di autostrada che permette all'audio di correre in pace possiamo avere più tracce audio? nessuno ce lo vieta infatti io qui ne ho 3 2 piene e una vuota posso averne 3 piene ma posso averne quante ne voglio di tracce di tracce audio stessa cosa ecco qua vedete ho aggiunto tracce audio stessa cosa per quanto riguarda le tracce video nessuno mi vieta di avere più tracce video contemporaneamente la cosa importante da comprendere quando parliamo di audio chiaramente è che se io utilizzo due audio uno sopra l'altro chiaramente non si escludono a vicenda ma vanno a sommarsi se io ho uno speech qui e qui sotto vado a metterci una musica chiaramente la musica e lo speech verranno riprodotti contemporaneamente la traccia audio è questa immaginatela come una strada su cui corrono i vostri elementi video o i vostri elementi audio appunto nel caso di una traccia audio in premier vedete questa linea centrale è la linea di dimarcazione tra tutto quello che riguarda il video e tutto quello che riguarda l'audio ok e il canale audio allora cos'è? oh è interessante immaginate immaginate queste tracce audio come delle autostrade e le autostrade chiaramente possono avere delle corsie ora sono delle autostrade particolari perché queste autostrade possono avere anche una sola corsia o possono avere anche otto corsie 20 corsie 24 corsie queste corsie sono i canali audio se io vado a zoomare qui l'immagine la vado ad ingrandire vedremo che questo audio al suo interno ospita due piste due canali il canale dell'orecchio sinistro e il canale dell'orecchio destro quindi la traccia audio è il contenitore gli oggetti multimediali ovviamente sono il contenuto ma gli oggetti multimediali audio al loro interno ospitano dei canali audio quando parliamo di un oggetto multimediale mono ci riferiamo ad un oggetto multimediale che contiene soltanto un canale presumibilmente il canale mono quando parliamo di un oggetto multimediale stereo come in questo caso ci riferiamo ad un oggetto multimediale che contiene due canali un canale per l'orecchio sinistro e un canale per l'orecchio destro quindi facendo un sunto si può parlare di una traccia stereo? sì perché una traccia stereo come queste sono tracce che possono ospitare audio con due canali audio possiamo parlare di un canale stereo? no perché il canale non può essere stereo il canale porta sempre un solo segnale ok? che può essere o per non so la vostra cassa di sinistra per la vostra cassa di destra se lavorate e se avete a che fare con un impianto Dolby 5.1 ecco avrete a che fare addirittura con sei canali audio ognuno dei quali porta un segnale per una posizione precisa del vostro impianto ve lo faccio vedere immediatamente così capite facciamo finta di creare una nuova sequenza quando noi creiamo una nuova sequenza questo non ve l'ho detto ma ve lo anticipo adesso magari ci torneremo poi con un tutorial ad hoc nella terza tab quella dedicata alle tracce possiamo modificare sia il numero di tracce audio di default ospitati di default sia il numero di tracce video ospitate di default tra le tracce audio noi possiamo scegliere quali tracce audio avere avere tracce audio stereo 5.1 multicanale mono mono è inutile che ve lo dico come potete vedere qui una traccia mono ospita un solo canale così come una traccia stereo ospita due canali ma una traccia 5.1 quella che utilizziamo per intenderci quando abbiamo il suono che arriva da tutte le direzioni ospita ben 6 canali audio allo stesso modo qui non è elencato ma una traccia 7.1 per un impianto Dolby 7.1 ospita 8 canali audio ok? per me ci do la possibilità anche di creare delle tracce multicanale che quindi possano ospitare più canali contemporaneamente ma è un argomento avanzato che adesso non andiamo ad affrontare questo è importante per mettere un punto sul concetto e sulle differenze che esistono tra traccia e canale la traccia è l'autostrada e il canale è la corsia intendiamolo in questo modo più avanti nel corso di questi video tutorial vedremo come in Premiere esistono due mixer audio uno per gestire le tracce e uno per gestire le singole clip multimediali e chiaramente all'interno delle singole clip multimediali vedremo che ci potranno essere uno o due canali audio a seconda se la clip è mono o a seconda se la clip è stereo ne parleremo diffusamente nei prossimi tutorial per il momento vi ringrazio nel prossimo tutorial parleremo finalmente direte voi delle dissolvenze audio come inserire transizioni audio in Adobe Premiere 2019 iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i tutorial di prossima creazione di prossima pubblicazione e come sempre venite a trovarmi anche sul sito internet www.fabioambrosi.it perché lì troverete tanti altri tutorial oltre all'elenco completo di tutte le lezioni di questo corso introduttivo ad Adobe Premiere 2019 grazie ancora al prossimo video tutorial ciao ciao